musica no 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 ma questo ma sta lì come ma dai ma questo va è un ciao a tutti amici e bentornati in outlast 2 esatto come al solito io sono varus qui con me ma tre ma tre o se siamo qua ho appena ricaricato la partita là dove l'avevamo lasciata e dove l'avevamo lasciata raccontano nella cappella che abbiamo appena visto la che uccidevano un altro tizio il papak not parlavano di una certa non mi ricordo più va beh parlavano sostanzialmente da quello che sembra di nostra moglie che l'avevano rapita e il tizio che stavano torturando gli ha detto sostanzialmente che era in miniera quindi noi l'obiettivo è appunto rocina ma non sentiero per raggiungere la miniera detto questo amici direi di iniziare riusciamo da qua e il tizio che è morto è questo vi ricordo che trovate sotto in descrizione la playlist con tutte le puntate in ordine il tizio qua è morto bene a questo punto la tizia qua pure se sono rotte proprio le ossa guarda tra l'altra questa qua dovevano lasciarla libera però sì beh comunque sì bene chiuso ancora pensavo che l'avessero aperto quindi direi di uscire non possiamo fare nient'altro oh che cacchio ah giusto giusto grande matrelius questa è un'ottima cosa posso driblarlo questo arriva qua sono in due matrelius vado a destra vado a destra no c'è un altro vado di qua ok no di qua no driblarli 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 e torna va di qua va di qua eh c'è un altro l'ho driblato l'ho driblato driblati driblati via via vai vai come se non ci fosse un domani ma corre veramente bolt bolt come bolt ma come quando sei stanco ti stanno inseguendo non stancarti annaspa sta annaspando possiamo recuperiamo un po vai 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 è tutto strancolare era aperta prima la porta sei chiusa di no non so dove andare è bloccata l'aiuto ma tre si è avuto un'idea della cacca ce n'è l'hai vista anche te però che era vera si ma guarda come ahia 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 ma ha tirato una legnata ma in discesa sei più non posso curarmi no non ci facciamo fottere eh ma tanto si ho capito ma quanto ci impiega a recuperare l'energia questo qua tre anni si adesso in un'altra mazzate siamo morti o dove cavolo va c'è tu diri eh son morto perché non posso ma passati ma passati più costi e non è che ora ora vai lo driblato lo driblato dai non corre più eh ma non corre più è tutto e niente cioè vabbè lasciamo stare correva tra fuori ma tre io si è avuto un'idea da schifo vai vai corri qua eh ho sbagliato poca scusa questa la chiude vado vai dritto si vado dritto poi mi imbosco da qualche parte secondo me dobbiamo correre basso dove non lo so da qualche parte hai chiuso tutto la strada qua dentro dentro qui qua no 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 ma questo ma sta lì come ma dai ma questo è un è un pistola cioè e poi non ma va 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 dai e tre perché qua mi perdo sempre aspetta adesso non chiudo neanche la porta me ne ho saltato comunque per correre di più sui rettilini che forse qua forse qua no qua è chiuso no 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 è giusto di lì sì ma è giusto andare riconi di lì dove l'è andato ma è chiuso non era aperto prima non chiusero vai continua non è di qui chiuso vai gira lì corre e matriz la velocità massima possibile di questo tizio è questa stanno arrivando e stanno arrivando ancora salta qua non possono salire però l'ho detto che era giusto capito ma ho una batteria su una sedia ok amici abbiamo finito il gioco adesso perché da quando ci dobbiamo buttare giù e non c'è altra alternativa dobbiamo raggiungere la miniera quindi vabbè se c'è una strada di qua cos'è il cactus ah il cactus ho fatto male da da solo eccolo lì eccolo qua eccolo qua ancora schiorsacchiotti spero che sia una radio radio col bambino ha delle gambe molto strane questi bambini sono tutti molto morti molto morti lasciamo la lì non c'è il chiavistello qua non è che mi fido di questa qua qua c'è una tomba sta arrivando qualcuno dunque si prepari chi è disposto ad ascoltare prepari la sua mente accolga la serenità è un altro capitolo amici ve lo mettiamo qua leggetelo però dunque si è un altro capitolo è un altro di quei capitoli fottuti adesso ci ritroviamo qualcuno davanti alla fine si ma non si vede una ceppa ok così meglio come no penso che sia una radio si senti sei registrato quelli blu no no però se passiamo qua adesso ci prendo davanti un sorcio lungo 4 metri sorcio qua c'è qualcuno ho visto un lampino eh l'ho dribblato un po' adesso lasciamo dietro poi destra calma calma ok è andato esattamente dove stavo andando io comunque devo dire che guarda guarda ci sono le cose pestate devo dire che è quasi finito abbiamo attraversato il campo calma in calma si verifica la situazione qua c'è un mulino qua c'è un mulino qua c'è una porta che ti invita a entrare andiamo per sicurezza ma non per sfiducia bene bene deve esserci un modo per fermare la ruota perché deve passarci su per entrare dentro lì l'obiettivo è andare dentro qua è aperto ah però è un regolino qui ah deve andare dentro di qua ma scusa ma domanda se l'ha aperta ce l'ha in mezzo al cuore adesso non erano due porte diverse ma insieme in miniera perché dovresti fermare questa per entrare nella miniera dice forse no forse qualche cosa stai facendo forse qualcosa di aggiuntivo corri stanno sfondando ma chi sta sfondando qua esce qualcuno da quella porta lì che trovi secondo me per no guarda guarda qua che serve la si per bloccare il fuoco dell'acqua qua ci arrivavo anch'io si per bloccare il fuoco dell'acqua qua ci arrivavo anch'io è sotto eh dove vado qua sopra buttati giù guai buttati dove guai guai belle belle amatrice passa sotto passa sotto ora capito 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 avete in fuoco capito 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 qua c'è il letame qua di vomito un letame di vomito ma chi gli ha detto di cambiare la batteria è perchè abbiamo le cose delle batterie piene questa è un'ottima deduzione ora hanno bruciato una vacca credo ma sai che è questo posto piccone 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 cioè non è un nome qua si chiama piccone ma perchè si disattiva sempre il microfono ci ha guardati ma io mi chiedo perchè viene da questa parte non trovo più treius non so dove sono inforcato treius sai che non sto vedendo niente eh aiuto non ti ha beccato ma treius stai in bosco di qua che tanto non ti vedo aiuto vado di qua io eh cioè veloce come ma dopo si sta ma se abbiamo preso la strada giusta la miniera è qua la miniera ma treius c'è un'apertura lì si il problema è entrare dentro lì no indietro no torci eh ma credo che sia lì la no cioè dove ne succede no non è qua cioè è anche qua ma non è qua qua il carretto c'è il carretto a spostare no eh abbiamo preso la strada giusta per la prima volta si è vero in tutte e due gli outlast rischiando si erano mucche vedi erano maledottamente fottutamente mucche abbiamo brutte esperienze con i ganci noi e anche col macello avrebbero dovuto chiedere un frigo al loro dio vabbè e guarda qua tra l'altro non so fossero corpi di mucche invece sono uomini sono uomini incaprettati mamma mia roba brutta però penso che dobbiamo passare credo di sì qua c'è non c'era mai no sembrava che pallassero dalle inquadrature no no aspetta abbiamo brutti ricordi con eh tira questo che arriva il gatto eccolo lì il gatto ancora una basta oddio ho sentito tu l'odio dietro marta marta mia diletta mio segungio mio angelo vendicatore val ha tradito temple gate ha tradito dio ha tradito me esplora gli abissi del tuo odio e trasformalo in violenza per punire quell'urido apostata val deve soffrire implorare il perdono che tu gli negherai val deve morire nell'oscurità totalmente priva dell'amore di dio tutti coloro che hanno seguito val devono morire implorando quella pietà che tu hai rimosso dal tuo cuore lascia lascia dio la misericordia tu sarai solo collera papà ti ama dio ti perdona Knot Knot che parla era lì dietro potrebbe essere ancora lì chiuso così sembra tu sai che dobbiamo uscire da lì e tornare là dove eravamo e ficcare sto gancio da qualche parte che non ho idea di dove tu sai che se eravamo qua e questa qua apre la porta siamo fottuti tu adesso sai che dobbiamo riattraversare il macello io so tutte queste cose certo ma giusto per sapere ma per per sapere se le sapevi non ne sa ancora lo so vabbè è qui è chiuso è qui è qui è qui è qui qui davanti c'è qualcuno davanti ma lì non l'ho fatto a chiuderci non lo so si ma non so dove infilare sto coso proviamo qui che nessuno ha infilato? potrebbe avere un gancio lì potrebbe averne esso qua da qualche parte magari qua per che nessuno ha? infilarlo dentro lì abbiamo un gancio c'è la tizia lì che ci marca uomo la domanda è qui c'è un cavo cavolo cavolo qua non c'è niente però non trovo neanche qualcosa che che puoi dire cavolo ci infilo qua il gancio non c'è qualcosa di chiaro qua c'è una lei si qua quello proviamo proviamo ehm no non era quello che volevamo fare vedi che qua c'è non so cosa possa servire però ah no niente solo il collegamento ma noi siamo usciti ma non è che dovevamo rimanere pensavo che magari salivai ma non è che dovevamo rimanere dentro non credo non credo non credo non credo che cavolo non credo non avrebbe senso il passaggio lì non avrebbe veramente senso il passaggio lì ma no qua non puoi fargli niente dai cioè tu rubi il gancio ma e per cosa non puoi farci niente qua del gancio qua la porta che c'è dietro ma la porta che ci esce esce dietro lì ecco allora o proviamo a tornare indietro proprio indietro però non capisco il gancio cosa ah forse non lo so da qua dentro può essere eh ma cosa fai no da dentro ok salvo e sai cosa ti dico matreius che col gancio in mano senza sapere cosa fa se nemmeno lo scopriremo nella prossima puntata per questa puntata è tutto un bel like amici un commento e una condivisione da amore e da matreius ci vediamo al prossimo tutorial video ciao a tutti ciao e che la notte horror sia con voi ciao 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 ciao